In paradiso le anime dei redenti risplenderanno in base all'amore che hanno avuto ed hanno verso Dio ed il prossimo. Ognuna avrà il suo particolare splendore e nessuno invidirà le altre perché la verità sarà evidente in tutti. Ma ci saranno anche molte sorprese. Si vedranno anime risplendere molto più di altre e che in vita erano giudicate cattive o nemmeno considerate. Uno potrebbe vedere ad esempio lo splendore della sua umile vicina di casa che considerava poco. Capirà in modo chiaro quanto ella aveva sofferto per i suoi figli per averli amati in Dio. Potrebbe anche vedere l'anima luminosa di un delinquente che si era pentito sinceramente prima di morire. Un esempio è Sandisma, il buon ladrone. Risplenderanno anche molte anime di prostitute che avevano sofferto molto per la loro situazione terrena pentendosi. Ecco perché non si dovrebbe giudicare e condannare nessuno in questa vita.